Gianmarco Centinaio, perché la Lega Nord ha scelto Vittorio Feltri? Perché per il Presidente della Repubblica avevamo delle caratteristiche. La caratteristica doveva essere una persona al di fuori dalla politica e dai partiti, una persona che non fosse usurata negli anni dalla presenza nei vari palazzi, ma una persona che conoscesse bene la politica e gli italiani. L'idea è quella di andare su Vittorio Feltri, che riteniamo la persona giusta a ricoprire questo incarico, lo riteniamo una persona equilibrata, lo riteniamo una persona non di parte e lo riteniamo anche una persona che nei confronti dell'Europa potrebbe anche tranquillamente fare la voce grossa, visto che il nostro Presidente del Consiglio, poverino, non è in grado di farla. E quindi pensiamo che il nome di Feltri sia quello giusto.